In questo video vi mostrerò la battaglia del Fosso di Elm dal punto di vista di Isengard utilizzando la mod di Third Age Total War. Riusciranno le truppe di Saruman ad averla meglio? Qui è il Cap e benvenuti sul Cap Games, il canale dove parliamo di videogiochi un po' particolari. Custom Battle E qui come potete vedere ci sono decine e decine di mappe caratterizzate quindi dal Force of Isen fino a Minas Tirith e il Fosso di Elm stesso che è quello che andremo a giocare. Faremo un po' la versione cinematografica, impostiamo come Time of the Day Night bisogna soddisfare tutti questi requirements quindi Fortezza e Custom Culture Siamo sotto il livello, impostiamo Fortezza e Culture sotto Custom Giocherò come attaccante utilizzando le forze di Isengard e come abbiamo detto seguendo la pellicola di Peter Jackson dall'altra parte metteremo Roirin e la creazione dell'esercito farò fare Alper eventualmente quindi clicchiamo su questo e modifichiamo leggermente magari hanno un po' troppa cavalleria mettiamo qualche arciolo in più e magari potenziamo un pelo quello che hanno già stessa cosa per gli Alfi un po' troppo di truppe corpo a corpo mettiamo qualche arciolo in più quanto riguarda invece il nostro esercito utilizzeremo le guardie d'elite come generale una balista due unità di balistrieri una bomba questa sarà fondamentale per aprire una breccia unità di bellicosi per quante ce ne sono concesse quindi due unità di bicchieri al massimo unità di guerrieri anche e completiamo l'esercito con beh un po' di marmaia e godiamoci un attimo questo colpo d'occhio sull'esercito di Isengard notare come un gioco del 2006 riesca a gestire tutte queste unità a schermo certo anche Pikmin lo faceva con tanto di discorso generale mamma mia ho la pelle d'oca dopo questo discorso possiamo anche iniziare col deployment questo sarà il nostro piano d'attacco molto classico quindi utilizzeremo le scale per tenere impegnato il fossato le bombe per aprire una breccia in questo punto avremo fuoco di copertura da parte delle nostre baliste nel frattempo diciamo ci sarà questa azione diversiva della Rieti e così è inizio andiamo in via all'assalto ah per il momento il nostro avversario sta usando un mix tra frecce incendiarie che sicuramente sono più efficaci rispetto alle frecce normali e una serie di frecce normali notare la cura dei dettagli incredibili ok la bomba è in posizione quasi momento clou cerco disperatamente di abbattere i genieri qui ma ormai ci siamo avanti ragazzi cosa stai aspettando eccolo abbiamo ucciso il generale degli elfi capitano legolas per l'altro beh abbiamo aperto una breccia nel frattempo le nostre scala hanno raggiunto le mura il batterio è in posizione non sarà lì prima che le defenze dei nostri siamo quasi al momento di contatto sulle mura ancora nel in mezzo alla foschia notare come salgono quegli scudi per proteggersi dalle frecce e finalmente siamo al corpo a corpo ormai la battaglia è imperversa su tutte le mura con i belli cosi che fanno strage dei roirrim ok riversatevi nella breccia qua come la situazione ah abbiamo aperto la porta abbiamo sfondato il cancello principale bene possiamo lasciare il la nostra riete qui queste unità potranno caricare ormai ci stiamo riversando dentro come in vano cercano di coprire la breccia ma ormai siamo dentro abbiamo andato i roirrim in fuga nel frattempo questa unità è chiusa fra due unità di belli cosi sono condannati nel frattempo cerchiamo di avanzare verso il trombatorione e vediamo come la situazione invece al cancello principale non è delle migliori si sono disposte abbastanza bene sarà difficile avanzare però non ci lamentiamo ecco abbiamo aperto un'altra breccia qua questa balista è molto efficace avanti questa guardia dell'elite elfica che cerca di tenere a bada le truppe di urukai mentre probabilmente il resto dei roirrim si sta rintanando qui dove avranno la loro ultima difesa nel frattempo bombardiamoli un po' qua tengono duro anche se sono rimasti veramente in pochi abbiamo dato la fuga le abbiamo messi in fuga ottimo le mura sono state completamente ripulite notare qui c'è ancora qualcuno che sta combattendo incredibile gli ultimi di ero irrim l'ultimo uomo questa è stata quasi totalmente distrutta quasi l'ora di marciare perché questi stanno tornando indietro dove andate qua si stanno un po' riorganizzando sempre molto dettagliati i lanci delle balestre veramente ben fatto qua l'avanzata è un po' lentina ma piano piano riusciremo a passare uniamo alla festa anche i rukai che hanno conquistato la porta principale qua siamo praticamente qui siamo praticamente di fronte all'entrata delle caverne scintillanti l'ultima carica dei degli elfi silvani non ha dato gli effetti sperati ormai ci siamo il posto di elm presto cadrà difesa tenace qua sulla porta del resto qua si parla della guardia reale di rohan con tanto in generale probabilmente ormai non hanno più numeri eccoli qua i primi orchi che valicano la porta per poi venire distrutti da questa andata di cavalleria ormai anche la guardia reale cede notare i dettagli che ci sono incredibile quell'uruka è stato buttato a terra è molto ben fatto ormai ormai non c'è più scampo abbiamo catturato il generale nemico capitano Edmond l'alba ancora non è arrivata quindi non mi aspetto l'arrivo di Gandalf quest'arcele di Ron è molto coraggioso continuo se il suo arco anche praticamente a cortissima distanza uccidendo peraltro un urukai così eh l'hanno preso ah ah guarda come si muove hanno messo fine alla sua esistenza penso che ormai siano tipo meno di 30 uomini rimasti a difendere di nuovo il corno di Rohan non è che adesso esce fuori Teoden da qua no tenete sott'occhio quella porta quasi ci siano più unità avversarie ah si gli ultimi due un elfo un uomo quanto è romantica attenzione anche gli elfi hanno un modo di morire piuttosto strano in questo gioco devo dire e l'ultimo rimasto se ne porta a presso due che combattente che combattente se la prende anche col bellicoso ascoltate c'è eh vabbè ragazzi uno contro 18.000 eh ma continua eh attenzione il bellicoso come ha parato il colpo e gli ha mozzato la testa comunque delle animazioni fuori scala per un gioco del 2006 veramente fuori scala bene quindi il regno dei uomini di Rohan è stato terminato se vi sta piacendo il video ricordatevi di seguire il canale quale altre battaglie della terza era vorreste vedere scrivetelo sotto nei commenti per installare questa mod troverete il link in descrizione qui il cap passo e chiudo